Più di 30 elementi compongono la squadra Etruria Scherma, che da più di 4 anni in attività presso l'Art Fitness di Ciorvetri, un mix tra femmine e maschi, dai 6 ai 18 anni, si allenano con un impegno e un carisma unico. Eseguiti dalla loro insegnante, Marcella Lessova, tra Spada, Fioretto e Sciabola, coltivano una passione di cui sono orgogliosi. Per me è bellissimo perché mi dà anche tante soddisfazioni, perché ormai sono tanti anni che lo faccio. Ma mai ti si è avvicinato alla scherma? Mi piaceva molto da bambino. Tanti trofei in bacheca, atleti sul tetto nazionale, anche con la partecipazione ai mondiali cadetti di Verona. È uno sport completo, a tutti i livelli, perché è uno sport che impegna sia la mente sia fisico e praticamente aiuta a crearsi un bel carattere, forte, determinato. È uno sport molto impegnativo perché comunque i ragazzi, per raggiungere obiettivi e per migliorare anche le loro performance personali, devono lavorare tanto, sacrificarsi tanto e avere tanta costanza. Diciamo che a livello interregionale abbiamo preso parecchi podi, parecchi premi, poi anche a livello internazionale abbiamo una mia figlia che praticamente gareggia per... rappresenta la nazione slovacca, anche a livello internazionale. È partecipato a Europei, a Soci quest'anno, si è classificata al ventesimo posto. Avete voglia di crescere? Tra qualche anno avete qualche sogno nel cassetto? La voglia di crescere c'è, perché comunque noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare ognuno ha i propri obiettivi, i propri limiti, però certo i sogni ci sono. Il sogno è magari rivincere di nuovo il campionato a Riccione, giovanile, perché noi tre anni fa abbiamo vinto con il mio ragazzo, che è stato campione italiano.